Il tema dei vaccini è oggi quanto più attuale. L'azienda dei servizi sanitari della provincia di Trento ha ampliato l'offerta della vaccinazione gratuita contro il papilloma virus umano, l'HPV, attraverso un piano sanitario definito epocale che coinvolgerà circa 100.000 persone nei prossimi 4-5 anni. È una raccomandazione dell'OMS debellare quello che è il carcinoma della cervice uterina e i carcinomi HPV correlati. Preferiamo estendere questa vaccinazione almeno fino ai 30 anni nel maschio e ai 40 nelle donne. A Palermo, al 57esimo congresso nazionale della Siti, la società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica, la campagna vaccinale per sradicare l'HPV è stata illustrata dal direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, che ha spiegato le modalità del piano di vaccinazione per contrastare il tumore che colpisce circa 4.400 persone ogni anno in Italia. Sarà una campagna vaccinale epocale perché coinvolgerà circa 90.000 trentini su 530.000 tramite una piattaforma su cui sarà possibile iscriversi e un sollecito con chiamata attiva per le cohorti interessate. Un importante passo verso l'obiettivo di contrastare efficacemente il carcinoma della cervice uterina e i carcinomi HPV correlati.